Controllo periodico sulla linea di demarcazione fra le due Germanie, dei reticolati, dei confini, delle barriere che tagliano il territorio tedesco in due tronconi. Ma dall'est si sfugge ogni giorno nonostante il blocco. Berlino-Ovest è il principale passaggio dalla zona russa verso la libertà. Da anni non meno di 5.000 tedeschi la settimana raggiungono l'Occidente. Centinaia di migliaia di rifugiati nel centro di Friedland, nella Germania di Bonn, hanno ritrovato la madre, un fratello, un parente. Tutti hanno ricominciato a respirare liberamente. A Berlino una mostra di pittura che raccoglie opere di rifugiati e fuggiaschi ha visto riflettere nei quadri l'esperienza tragica di uomini scampati alla tirannide e alla morte.